Tre scelti! La poppetta! Questa sarà la... Oh! Senza munizioni non serve a nulla! Giù e scattate! Sono la mano di Walden! Seppurrò infermio tanto le vostre forze! Sono la poppetta! La profonda! La profonda! Sì, non è vero. Oh, oh, oh. Dove avete portato la nostra gente? Rispondi alla domanda Ha condotto i fedeli nel suo parco, nella penisola sud Ma non ci arriverete mai La torre sul posto rende quel luogo del tutto inavecimabile E mia sorella è laggiù? Ma era nell'ultimo gruppo Non mi è stato ordinato di portarne altri Ma Warner ha promesso l'ascensione a chiunque si mostre degno Non riesco a capire Londra ti sta sfruttando per i suoi interessi Ammettiamolo, sei una fredda facile Talmente pieno di te da non vedere la verità Perlomeno gli hai dato parecchio a cui pensare Adesso voglio sapere ogni cosa Perché Londra vuole andarsene? Qualcosa si avvicina alla Terra Ha distrutto il mondo da cui è fuggito Londra E vuole fare lo stesso al nostro Distruggere il mondo? Chi potrebbe mai riuscirci? Si chiama Nemesi È come una macchina Tipo Ma Più potente di quelle che io o te abbiamo mai affrontato Per questo Londra costruisce la nave Cerca di scappare prima che arrivi Nemesi E suppongo Che voglia portarsi dietro alcuni di voi Senti, so che è molto dura da accettare Ma c'è ancora speranza Se lo dici tu Sei che io C'è una spiaggia sulla costa sud-est dell'isola Dove abbiamo distrutto la prima torre Credo che sia il punto più vicino al parco di Londra E forse è il caso di fare rapporto all'ammiraglio Dirgli Quello Che è successo qui Bene Ci vediamo alla spiaggia, allora Cavolo Poteva andare meglio Molto, molto meglio Sai che sembrava così Grazie